ciao manny mi sei dire dove ci troviamo mi sono persa credo seppur affranto ne sono convinto di crudelia questo è il famigerato labirinto ma se c'è manny è tutto sotto controllo è chiaro il concetto è chiaro sì mi aiuterai ad uscire dal labirinto ti consiglierò lungo il percorso te gusta bene che cosa mi dici allora il problema è che quei mattacchioni dei demon hanno costruito il labirinto per tenere lontani di estranei ci sei per superarlo devi imparare a deviare usa l'ingegno e aziona il congegno ho sei di legno quindi devo usare i congegni per deviare le barriere grazie manny che piacere vederti ehi la bella gioia questo è uno dei congegni di cui parlavo ci sono e i picci da un'occhiata qui crudelia ha messo delle trappole spinose per fermarti ci sei ma il grande manny conosce un segreto e qual è i rovi spinosi seguono sempre lo stesso percorso se memorizzi il tracciato non finisci buccherellato grazie manny basta la vista sei un super cucciolo forte una mappa deve avercela messa manny è un grande è un po strano ma è comunque un grande buccherellato grazie a tutti grazie a dopo grazie a tutti 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 wow grazie a tutti grazie a tutti ciao